E noi siamo in studio con Alberto Zenda, presidente della Banca Territori del Monviso e Benedetta Rei, responsabile relazioni esterne e marketing presso la stessa banca. Benvenuti in studio. Grazie, buongiorno a tutti, grazie. Come dice anche il nome, no? La Banca Territori del Monviso ha moltissime realtà sul territorio. Sì, la Banca Territori del Monviso ha una buona presenza sul territorio, sia sulla provincia di Cuneo che sulla provincia di Torino. Noi abbiamo 20 filiali, in parte sulla provincia di Cuneo e in parte sulla provincia di Torino. L'ultima filiale è quella di Collegno che è stata aperta sei mesi fa. Parlando di numeri, so che la Banca Territori del Monviso ha registrato un'importante crescita negli ultimi anni. Diciamo che negli ultimi anni sono cresciute un po' tutte le banche del territorio, le BCC. Noi siamo cresciuti molto bene, siamo radicati bene sul nostro territorio, lavoriamo con artigiani, imprenditori, liberi professionisti. Abbiamo 9.600 soci e i risultati sono buoni. In questo momento sono particolarmente felice del risultato che abbiamo raggiunto nel bilancio del 2023. I giovani più che mai oggigiorno forse vogliono abbracciare le opportunità per crescere dal punto di vista imprenditoriale. Quali sono le iniziative della Banca Territori del Monviso in questo senso? Buongiorno a tutti innanzitutto. Noi come Banca Territori del Monviso abbiamo una compagine sociale di quasi 10.000 soci e il 33% di essi sono appunto giovani. Questo cosa significa? Che è una banca che sta cercando sempre più di rivolgersi ai ragazzi e alle ragazze del territorio. Noi come Banca Territori del Monviso nel corso del 2023, precisamente a ottobre, abbiamo avviato un percorso di educazione finanziaria dove abbiamo coinvolto oltre 2.000 studenti, sia alunni delle classi secondarie di primo grado che di secondo grado. E con alcuni di essi stiamo collaborando per un percorso per le competenze e per l'orientamento dove studieranno la prossima campagna di comunicazione del conto Evo Giovani Soci della Banca. E verranno poi presentati in assemblea il prossimo 17 maggio questi progetti e verrà premiato il progetto che riterremo che sia meritevole. Inoltre stiamo organizzando diverse iniziative con i ragazzi per coinvolgerli anche con shooting fotografici, orientamento in ambito professionale. E una cosa per cui cerchiamo di portare avanti una bella collaborazione con le associazioni del territorio per promuovere le sponsorizzazioni. E un'altra cosa che stiamo avviando è un percorso per avviare le attività di impresa giovanili e quindi sosteniamo i ragazzi proprio dall'inizio dell'idea e fino alla realizzazione del progetto. Dove possiamo trovarvi? Oltre alle filiali appunto presenti sul territorio potete cercare informazioni sul sito bancabtm.it oppure sui social sia la pagina Instagram che la pagina di Facebook, sono sempre aggiornate e poi non per ultimo la pagina di LinkedIn con le notizie più istituzionali. E noi ringraziamo Alberto Zenda, presidente della Banca Territori del Monviso e Benedettarei responsabile relazioni esterne e marketing presso la stessa banca. Grazie per essere stati qui con noi in studio. Buon lavoro.